Non mi è possibile rilevare il secondo sacerdote infernale. Al tuo localizzatore celestiale manca un pezzo. Ci servirà un rimpiazzo. Riprogettazione e equipaggiamento da spalla completata. Il getto infuocato è pronto per l'approvazione. Il portale attivo è pronto per l'utilizzo. Questa è una trasmissione dell'Arc. Registriamo rapporti in arrivo dalla zona infernizzata in quarantena. C'è una trasmissione dell'Arc. È una trasmissione dell'Arc. Questa è una trasmissione dell'Arc. Questa è una trasmissione dell'Arc. Questa è una trasmissione dell'Arc. È una trasmissione dell'Arc. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Con la batteria delle sentinelle fornisci più energia alla tua nave. Alcuni moduli sono inutilizzati. Se riesci a trovare altre batterie, sfrutterai appieno le funzioni della stazione di comando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un nucleo delle sentinelle è vicino. Puoi usarlo per attivare il mech e aprirti un passaggio. Grazie a tutti. 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 a tutti.